come promesso la nostra scena perché sono proprio tutti i ghiari di chitti no vabbè ogni sera ma poi c'è la mattisa si c'è chitta di malta proprio va bene oggi abbiamo parlato di spacca piniti e noi mangiamo stasera ma che è questa meraviglia come è fatta salsiccia condita fino al forno con patata e cipolla vino con belli peperoni arrostiti vediamo chi è che si questi sono una cosa pugliese ah che cos'è scelto sembi sassizza salamino secco salamino secco è buono ma fammelo assaggiare dammene uno fermo che non dà più la battaglia se si indulisce ancora si può spezzare ma è molle ma non è quella buccia no no così così si mangia questo no la buccia già lo amo chi ne vuole zuzzo lo sapete cos'è lo zuzzo zuzzo fresco questo è fatto con gli scatti della carne buona cena o hai fammi ma fammi non ce l'hanno tutti questi dove abitano loro chi i follower a milano non hanno ma faddini penso a bagheria che si trova dove si trova in trentino non ce l'hanno a bolzano a bolzano vicino a bolzano e pagheria yes allora io sto mangiando va bene ragazzi buona cena io sto mangiando questo se mi sentite masticare buonissimo va bene ragazzi buona sera e buonanotte a domani no vabbè